Dopo la cerimonia del passaggio di consegne tra le cariche capitanali, tra la categoria entrante e uscente dell'area al mestranza, si avvicina sempre più il 4 marzo, giorno del passaggio delle consegne nelle 10 categorie dell'area al mestranza. E negli ultimi giorni di febbraio sono arrivate altre nuove nomine. L'Assemblea della categoria dei falegnami ed ebanisti, guidata dal presidente Roberto Nicosia, ha eletto all'unanimità il nuovo portabandiera per il 2023. Si tratta del 34enne Luigi Passaro. Accanto a lui è eletto anche il figlio Michele, di 15 anni, che rivestirà il ruolo di alabardiere. Il 66enne Antonio Carapanzano è stato scelto come portabaldacchino. Anche la categoria dei marmisti con il suo presidente Luigi Fiocco si è riunita in assemblea per procedere alle elezioni del portabandiera, che sfilerà nelle processioni del 2023, e cioè Giancarlo Salerno, classe 66, e della alabardiere, il 18enne. Calogero Zola è sposto.